Buongiorno a tutti, eccoci qui per un nuovo appuntamento con il vice direttore della tecnica della scuola, Reginaldo Palermo. Professore, iniziamo dalle ricorrenze. Cosa si ricorda questa settimana? Il 12 dicembre è una data importante nella storia più recente del nostro paese. Il 12 dicembre del 1969 avvenne un fatto tragico, drammatico, che ha cambiato proprio la storia del nostro paese. Il 12 dicembre del 69 infatti è la data in cui a Piazza Fontana, alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, viene fatta esplodere una bomba, decine di morti, moltissimi feriti. Non raccontiamo la vicenda perché la potete trovare dovunque nel web. Diciamo soltanto che è una data che ci ha cambiati, ha cambiato tutti noi che in quegli anni eravamo giovani e ha cambiato soprattutto la vita del paese. Torniamo alla stretta attualità invece. Come procede l'iter della legge di bilancio? La legge di bilancio procede in modo un po' strano, nel senso che il 12 e il 13 dicembre la commissione bilancio che sta esaminando la legge in via preliminare non si riunisce. Si riprende il giorno 14, la commissione lavorerà fino addirittura a domenica 18, con riunioni, con incontri continui praticamente, mattino, pomeriggio, sera. Si parla anche di sedute notturne. Questo nella speranza, diciamo pure, che per domenica notte si riesca a concludere i lavori in commissione. Sarà molto complicato, sarà molto difficile, sia perché il tempo è poco, ma anche perché gli emendamenti presentati sia dalle opposizioni, ma anche dalla maggioranza, sono molti e quindi bisognerà lavorare. Poi, a partire dalla settimana successiva, si riprenderanno i lavori in aula, il provvedimento andrà in aula al momento, da quanto ne sappiamo, il giorno 20 dicembre. Quindi lunedì non si farà nulla. Il 20 dicembre, si dovrebbe andare in aula e il calendario, ad oggi, prevede che si debbano concludere i lavori addirittura nella notte del 23 dicembre. Nonostante tutto questo, è quasi sicuro ormai che i tanti emendamenti che sono stati presentati non passeranno. Quindi la stragrande maggioranza rimarrà lettera morta, anche perché il governo ha già detto che tutt'al più ci sono a disposizione 400 milioni per gli ultimi ritocchi, ma nulla di più. Quindi vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Bene, sempre a proposito della legge di bilancio, si preannuncia una settimana abbastanza calda per il mondo della scuola. Certo, perché proprio a partire da oggi, 12 dicembre, ma per tutta la settimana ci saranno scioperi proclamati dalla CGL e in qualche caso anche dalla UIL a livello regionale. Nel nostro sito voi trovate una pagina in cui sono elencati tutti gli scioperi delle diverse regioni perché, attenzione, intanto lo sciopero non è in tutte le regioni e soprattutto non in tutte le regioni è convocato da entrambe le sigle. In qualche regione, per esempio, c'è soltanto la CGL a proclamare, a convocare lo sciopero. Ricordiamo che si tratta però di uno sciopero generale, quindi non soltanto della scuola, ma anche di tutte le altre categorie. Ed è uno sciopero appunto contro la legge di bilancio, contro il lavoro precario e per una alternativa a questa situazione che davvero è drammatica e si fa ogni giorno più difficile. Bene, grazie per queste risposte al vice direttore della tecnica della scuola, Reginaldo Palermo. Un saluto a tutti, alla prossima! Grazie a tutti!